eccomi qua buongiorno a tutti ragazzi sono andato in live per fare le white liste d'impero sono quasi a messina quindi perfetto ragazzi e allora ecco ma smutiamoci in discord perfetto ciao young ciao art al dia buongiorno io un po 1 2 e 3 2 3 rimandati darken 81 rimandato per compilare ma trovati se background vediamo se compilati che ha compilato background qua vedo perché non è troppo corto però mi dà impressione esatto lo spostiamo e glielo diciamo ciao ciao darken mi senti sono in live un problema sono in live un problema si smuto ok guarda stavo guardando il tuo background ed è un po corto rispetto alle richieste del da noi dello staff deve essere a minimo 2000 caratteri il tuo non è ancora minimo 2000 caratteri e deve essere più lungo di 2000 caratteri il tuo background ho capito fa lo stesso quindi amplialo e poi torna va bene lo stesso va bene a posto a dopo allora ciao l'ha capito boh poi abbiamo pitbull rimandato sicuro per il background pitbull normato per apriano e cambiare il nuovo disco deve cambiare ancora cambiato no l'ha cambiato se dici rispetto poi nome nome il modulo white list ha compilato veramente proprio c'è a post carno è descriviti come descriviti ma c'è nel background tipo scritto 2 punti descriviti 2 punti nico nico spezzacoscia si chiama nico spezzacoscia questa nrp non è un nome buonasera franci cavi nico spezzacoscia ma come nico spezzacoscia ma cosa significa infatti e poi il modulo white si è compilato veramente col culo se guardi legge il background e se guardi va ieri ho rimandato ieri ho rimandato uno che si chiamava gli ho chiesto di cambiare il nome e poi di ritornare ma ancora ho rimandato eh franci cavi come si è franci cavi eh esatto voglio chiamarti franci cavi franci cavi franci cavi franci cavi lei è il signor franci cavi alla francese franci cavi scrive bro allora ti dicevo io ieri ho rimandato un ragazzo che si che si voleva mettere come nome gennaro trattore mamma mia spezzacoscia direi che lo facciamo cambiare allora e anche il modulo deve cambiarlo meglio sposto ciao pitbull sono in live un problema per te no ci sta qualcuno che non è in live quello sopra di me quello sotto di me si esatto ecco loro perfetto allora ti rimetto in attesa comunque ti rimando direttamente io tanto perché ti rinuncio ti lascio stare per almeno per il tempo inutile cioè non ti faccio perdere tempo inutile innanzitutto devi cambiare il nickname del tuo nickname su discord eh no ma il nome di discord devi cambiare perché non c'è pitbull come nome va bene però devi cambiare anche il nome principale magari un carattere più leggibile almeno devi sistemare il modulo whitelist compilandolo come richiesto tra i messaggi fissati che non è compilato come abbiamo chiesto noi e cambiarti il nome rp perché nico spezza cosce non è per niente un nome non è un nome rp va bene va bene a posto a dopo si va bene quando vuoi ecco va bene ciao 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 e niente devo sospendere messina sospeso perfetto perfetto allora andiamo dade regaliamo gli bitade eh no è la sua l'aria eh no francicavi ha riscattato i 2000 punti per sospenderti allora io ti sospendo perfetto va bene va bene va bene alfred pumpkin resterà per sempre puoi riscattarli anche tu i 2000 punti per sospendere francicavi se ce li hai no non ce li ho si io metto la farmare i punti ma che cazzo eh ma se li metti a farmare i punti e vedrai che ce li ho no te sono troppo impegnato a farmare drocca costa anche poco e mi dissocio comunque mi no nel senso sui 2000 punti i social servì uno spacciatore io non lo sono no no eh basta che ti metti lì farmo i punti e in piano arriverei 2000 punti allora ci sta l'evidenza di messaggio 250 impero suggerisci una domanda alla far.. suggerisci una domanda alla far in white list 300 punti ne un via un messaggio in evidenza 400 in modalità sul bonaldi che cazzo significa? poi sblocca un emoticon 450 casuale, 550 per sceglierla tu, modifica un emoticon singola e 2.000 sospendi la persona perfetto abbiamo nebbino prosciuttino in attesa ok ragazzi, ieri il momento per compilare i moduli di istruzione per ricompilare la whitelist, l'unice del 3 mi ha compilato tutti i moduli per fare la whitelist modulo whitelist compilato e background pg è un po' corto, puoi vedere? si 1340, spostiamolo ciao sono in live, ho un problema? sono in live, ho un problema? ok, allora, guarda caro, sto guardando il tuo background, è più corto di quanto richiesto, deve essere almeno 2.000 caratteri e 1.400 caratteri all'incirca background? eh, aspetta un attimo ok, quindi amplialo fino a 2.000 caratteri, seguendo la scaletta che c'è fissata in background pg e poi torna, ok? aspetta un attimo 2.000 caratteri all'incirca esatto aspetta un attimo eh perchè sono tu, sono tu, sono tu poi che... oh sister, ringrazio per il follow, è venuto e nebino, devi ampliare il background fino a 2.000 caratteri e quanto è? eh, 1.400 con gli spazi, oltretutto ah quindi amplialo e poi torna, ok? ma il modul white list o il background? il background il background la storia del tuo personaggio ancora? va bene, fino a 2.000 esatto ciao ok grazie ciao ciao ma intanto la gente è strana pastagna perfetto c'è pure vinks che sta facendo le quelli ah aspetta che ho aggiunto un nuovo comando al bot e mi sono dimenticato di metterlo nella lista comandi un attimo ok, adesso lo faccio ora in commands custom comandi, modifica madonna mia, sta musica è brasiliana perfetto ragazzi, ho modificato, ho fatto un nuovo un, due, tre, quattro, sì, quarto comando che è punto scremativo whitelist qualcuno che lo prova? oh check puristi perfetto funziona il comando whitelist qualcuno che vuole sapere riguardo la whitelist fa il comando whitelist ad oggi in poi chiunque chiederà la whitelist come si fa, come funziona basta che fa punto scremativo whitelist e verrà spiegato tutto testa di cazzo come vi sembra il messaggio? sembra ottimo o male? sembra produttivo? o inutile? non è copia della ninja l'ho fatto io o voi mettete a caso bb alessandra 2007, grazie per il follow, benvenuto c'ho sita e non c'ho l'acqua, perfetto eppure eppure sai qual è un buon conto? xhy unseful, grazie per il follow, benvenuto cosa? di far vedere i montage in live eh, farò vedere quello della polizia quando la faranno ahahah ma montage tryharder o troll? non lo so faranno il montage della polizia tra poco anche se è copiato da ninja ma raga non è non è copiato da ninja raga non è copiato da ninja che bello avere 40 di febbre e mani di pancia che bello, wow non vorrei essere al tuo posto ma è cacato l'hanno già fatto, cosa Elfo? ah, ma hanno mandato il montage della polizia in privato perfetto, ma come no? come? dovevano metterlo nella clip di là eh sì sì, guarda quello di Brandon quello di Brandon l'ho fatto sì, quello di Brandon eh, ma quello di Brandon è amici dello staff anche sì sì, quello da Brandon ma la musica è... è copyright, spero aspetta che vedo se ci sto io ma è copyright o no la canzone? che c'è anche qualcosa vai più piano sì sì sì, l'ho fatto a Brandon ma non è quello completo però ho paura che sia copyright la canzone quindi non la metto ma ci sono canzoni potrebbero essere copyright due ore leggi sicuramente una... ex roleplayer caldo a un chilometro da te sì sì, guapara lo toglie nella stanza comunque amici dello staff me lo sto guardando papà adesso secondo me ma ci sono qualche mi fissuto un silently madonna тебя guarda questo poliziotto che c'ha oh mio dio come, cosa sei un figlio se tu vogiamo che è un figlio Ma no, c'è pure il cillone Sì, in memoria del nostro cillone Io vorrei fare la voglia ma se siete in due ho paura Come paura? Facciamo tanta paura Ci sei anche tu dove ti sparano col Sì, mi spara col moschetto Lo so, lo so, ma infatti non No, però io non ci sono Niente, non ci sono whitelist LSSD Quanti anni ha chi? Dani? 12 Ma che noi? Ma che 12? Ce ne ho 19 19 anni Fermi tutti, questo è una rapina Ho 19 anni ragazzi comunque Non è per moda come i bimbi minchion Avanti A 100 sub Dani metterà la no day La no fog Tutte queste cose qua da 3 yard A 100 sub, sì Però a 100 sub A 100 sub Siccome non ci arriveremo mai Esatto Sai qual è il fatto che Quando ti spostano siccome i voli giocare Sul server Ti sale quell'attimo in cui ti dico Ora mi rimandano E nulla Anche se le cose le sai Eh? A giocare il set Vediamo questo qua Non ho mai fatto Non ha fatto il modo L'uomo E se il background È corto E ha quitato comunque Non ho capito Artaglia Non si chiamava? Jacko 3 Brascio 04 Vediamo lui Mi è andato Deve inviare Il background In formato apribile Deve inviare il pc Per frattuare la whitelist Oggi alle 11.21 Allora Ho ci Tutto fatto Questo fatto Background Che si possa aprire Vediamo subito Se si può Perfetto Artaglia Perfetto Il background È apribile Quindi già è Ah ecco è tornato A giocare Vediamo un po' subito Allora se Ha compilato anche il modo Allora No Non l'ho compilato L'ho sposto Utiliamo sempre la live Ovviamente Perché non sa mai Ste persone nuove Gialle Buon pomeriggio Ciao Sono in live Un problema Ok guarda Devi Ampliare il background E compilare il modulo Whitelist A posto A posto Ciao Perfetto Perfetto Cabello corti Mostro intoso Starà sicuramente Un bel Un palese troll Esatto Che si tratti Di un troll Allora per il suo bene Le dico Di mutare la live Sì lo sposti tu Sì lo sposti tu Certo Perfetto Prego Vuto la live Vutata Allora perfetto L'ha fatto L'ha fatto L'ha fatto Non ci posso credere Quel Perfetto Mi spacca Quel perfetto Mi spacca Delle isiate Esatto Era così perfetto Che mi ha Tolline World Per futuro Che io ho mutato La live Ragazzi Madonna che caldo Eh sì Già Perfetto Era Dai come Ecco chi è Vabbè Guarda la Vodo Della mia live Cosa abbiamo Qua Ragazzi perfollo Vale Vale Madonna Ma che tempismo Ti stavo Overscrivendo In privato In questo momento Cioè appena Ho scritto In privato Vale Cioè Ti stavo rispondendo All'email Mentre stavo Facendo Sta White Lista Webica Adesso Ho aggiunto Il messaggio In privato Che ancora Non sono riuscito Che è successo Che è successo Mi ha sparato Un N-word Però Purtroppo Un mutatore Live Ora L'ho smutata E la gente Non mi può fregare Grazie Vale Meno male Che t'ho detto Meno male Che t'ho detto Muta Meno male Ok Francesco Mi ha scritto Anche in privato Mi ha scritto Vabbè Tranquillo Già l'ho Reportato Aspetta che vado A dirgli agli altri Di fare attenzione Se lo spostano No C'è l'altra Francesco Assurdo Il bello è che Per un attimo Sei in live È un problema No Ah ma lui è in live Dopo un po' Dopo un po' Fa Beh Come mai l'account Discord nuovo È perché è un È esatto Esatto È un dirlo Rihuitelist Negata Per aver Utilizzato Parole Non Consone In well Violando Le politiche Di Twitch Il dato nome Sta per Daniele Buon salve Per forza Di cose E vado Vedo che C'è qualcosa di brutto Si è successo Le politiche di Twitch Di Twitch Real Messina Mettete il parentesi N word Non lo metto Perché Non lo voglio Cioè Lo specificherò Poi nella stanza Staff La boccia Mi sembra Ragazza Gentile Eh beh Questo Stava poi Valutarlo Grazie per il follo Elettra 11 È venuto Perfetto Attenzionati Mamma mia Sta gente Sta pochè Sti poveracci Raga Mamma mia Sticcoloso Tani ma Il modulo Wireless BG Vanno Vanno Presentati Insieme Esatto Devi compilare Sia il modulo Wireless Che il background PG Poi ti metti In attesa Noi ti spostiamo E poi Valutiamo Il tutto Ha compilato Qualche modulo Questo No Perfetto Che c'è Che allora Cerco di arrivare Almeno 2000 caratteri Perfetto Perché non Sposa di sarto Perché adesso Un attimo Ragazzi ho avuto Questo problemino E adesso È nato Torino a farne Le whitelist Dani CS7TV Grazie per il follo Benvenuto Mi ho contato a scrivere Ma riesci a dialogare O no Va bene Perfetto Ok Buonasera E poi quello sarà Un personaggio di Gomorra Cazzo è Wow Sei un poveraccio Semplicemente Ok Blocca No noi ci dissociamo Dalla povertà Ovviamente Ovvio però Semplicemente È un mostro È un mostro Basta No No Tutto argomentato Vabbè Io in tutto questo Sai che ti dico Che c'è Adesso mi spari N word Inizia con la N A 5 lettere Negligenza Ninjo Ninjo Vabbè dai Io ho fatto 2260 caratteri Vanno bene Dipende Dipende Se è fatto bene Sì Se no no Povero intellettualmente Esatto Io vi saluto E vi ringrazio Forza Roma Abbas a Lazio No Oh guarda C'è JP Chi? My best moderator JP JP Ciao Messina vuoi fare il mio moderatore? Io? Sì Quando ci sono però Vabbè quando vi chiedete in live Se vuoi stare collegato Guardi dalla chat e basta Quando ci sono te lo posso fare Sta cortesia Perché no? Va bene Va bene Vabbè Ti aggiungo Mandami il privato Il tuo nickname Di cosa Ti aggiungo Ok perfetto Eccolo qua Ariel Messina Vabbè Questo Ma come hai fatto a taggarlo Se ora mai è stato bannato? Si può Ma già l'avevi menzionato prima No no Basta che fai tasto destro Copia ID Poi Un sera così Vado dalla live Anzi Guarda qua Copia ID Poi fai Questa Chiocciola ID E poi questo Lo chiudi tra le parentesine Non so come si chiama Discord Discord.id Fai andare qua un attimo Vediamo Già l'avrà disattivato l'account Comunque Ah è sicuro Sì infatti No L'account è stato creato Il 22 agosto Alle 14 e 4 minuti Nel Messina C'hai Che immagini C'hai di profilo tu? Tipo una persona grigia? Più o meno Più o meno Uno che piange Non lo so che cazzo No uno sotto la pioggia Sotto la pigoggia Vabbè Io adesso vado Vi saluto a tutti quanti Veramente stavolta Ci vediamo più tardi Perfetta Si sei moderatore Comunque ho guardato Va bene, ciao Poi su Rasta, dopo, ciao Tu eri su Miracle City Io ero super admin di Miracle City Giorgio3111 Grazie per il follow, benvenuto Ero admin di quel server Lo sono stato per un anno e mezzo più o meno Come si ricorda? Chi sei? Scusa Eri direttore dell'armeria Sì, ed ero anche il capo dei Cosa Nostra Di una delle mafie più potenti di quel server Perfetto I tempi in cui ero un tryharder Vabbè dai, detto questo Vabbò dai, ci vediamo Ciao Pubblicità Oh Daniele Ehi C'è una persona da vecchia data che mi dice Lo so che sei live, tranquillo Ok, ok Da Iwitist, appunto la Witistora Che si chiama Fancazzista Ah, sì, lo conosco Mi ha detto che ti voleva salutare Se vuoi scendere in un'altra Eh, sono in live Spostalo su Ciao Dove sono? Sono con me in Witlist E sono in live Quindi, attendo Buongiorno Miricuccio, grazie per il follow Benvenuto Oh, ma che ci fai qua Su Imped, un vero? Boh, mi giro Voglio entrare in polizia Svegliamo Eh, bene, bene Quando saranno le bandi aperti Che anche pure Perfetto Eh, niente, dai Boh Ho fatto la Witistora Perfetto Lo conosco da un sacco di tempo Anche io, tanto, un po' Poche anno Eh, niente, dai Non lo sposto sopra Boh, ciao Ci sentiamo dopo un game Sì, sì, ciao Dani, quando non ci sarà il Wip Non si sa Non si sa Le 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 Mord Non si sa Non si sa Dani, salve Carissimo, tenente Come stava oggi? Tutto bene T'ho detto Tutto bene Lei? Secondo solo Vi sfaccio una cosa Perfetto Eccom'è qua Perfetto Dani, mi voglio Mi sposti Vado a fare la WL Eh, adesso vediamo un attimo Come è così così Non sai se entrare in game Ti ho detto Che è successo? Dopo mi c'era questa notte Ma fottitene Fregatene 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 Mi faccio successo Stasera Stanotte Ho saputo Ho saputo Però fregatene Mi faccio successo Grazie a tutti. Ok, grazie per il follow, Angelo Brescio, benvenuto. Wings mi ha detto delle bellissime parole per continuare. Dai, Toretto, non ti devi pensare, mamma mia, sono solamente gli haters che continuano. Però un secondo che devo andare a bere perché c'è una sete tremenda, arrivo subito. Grazie a tutti. Come per sì, Wings è una brava persona, sicuramente aveva tolito delle belle parole. Adesso però c'è il problema che non abbiamo staffer che non sta nel live. E questo è un grosso problema perché la gente che non vuole farle in live non può farle. E quindi devo scrivere uno staffer che venga a farle qui al posto nostro per farle a chi non vuole. Comunque, a parte gli scherzi. Va bene, mi finisce la sub su un altro ragazzo e subito a te. Grazie, Artaglia. Gabbo, SG, se ci state, grazie per il follow, benvenuto. Grazie. Grazie a tutti. spostami a metafinale tanto va bene fare il live adesso sono più ragazzi perché c'è altre persone da spostare ma non voglio fare grazie per il follow allora certo io avevo certo già quei davanti che volevo oddio ho sbagliato c'avevo già certo ops io sono spostato per sbaglio certo che volevo fare la white list non ci vuole ecco dove il reggito regolamento perfetto regolamento quindi che il background tutto l'ha fatto apposta bene perfetto e se non lo spostiamo certo certo buonasera buonasera mi senti muto la white list impero sono in live è un problema se facciamo la white list in live ok mi sembrava la persona quindi mi fido smutare perfetto a post altrimenti vieni per me bannato da impero comunque mi raccomando utilizzare parole console di twitch e tutto quant'altro ok a posto allora visto che hai già fatto la white list è stato rimandato sono stato rimandato perché non sapevo le zone ok per forza ricorda comunque sto notando che seguire la white sarebbe molto rilassante oltre che interessanti ragazzi certo si si rilassa ci si si impara quindi dai perfetto iniziamo con tutto il regolamento in generale in quanto io chiedo sempre comunque tutto anche se perché ecco dovresti sicuro che sai anche le altre cose quindi definizione di rdm e vdm iniziamo allora rdm sarebbe dato random deathmatch a squadre sarebbe e sarebbe quando tu uccidi una persona senza un valido motivo rp invece vdm sarebbe che tu investi una persona senza un valido motivo rp e non l'assisti nel caso tu l'hai investita ok definizione di power game power game sarebbe abusare delle meccaniche di gioco o fare azioni forzate che non si basano sulla realtà grazie per il follow ciccio tv e ciccio il follow adesso ti muto di tanto dire che stavo una live grazie per il follow a spacco r6 benvenuto e grazie per il follow anche adrea gaming 16 benvenuto sul canale ok vabbè mi fai cinque esempi di power game allora andare a squadre non simulare il dolore parlare il radio in acqua parlare in acqua poi portare più oggetti del dovuto e correre con un corpo in mano questo lo vediamo se legge se non so farmi gli esempi e allora non legge ciao bello tutto bene tutto bene spacco grazie a tu e finizione di metagame metagame sarebbe prendere informazioni fuori dall'rp e utilizzarle in rp ok mi fai cinque esempi di power di messi di metagame cinque esempi di metagame vabbè il classico che trovi qualcosa in occhi e lo utilizzi come cazzo scusami si utilizza in rp oh grazie per il bit ciccio grazie mille grazie mille per il bit un punto droga grazie agli streamer come di sempre e poi dopo non lo so altre motivazioni dall'rp cioè tu prendi leggi qualcosa in game azioni leggi un'azione e vai lì vai lì tipo c'è un'azione lì e vai lì e scopri un altro punto cioè tipo vedi un'azione al 3027 e lì c'è potrebbe essere un punto droga e utilizzi quella informazione che hanno usato sull'accezione vai là o se no non lo so ok definizione di no fear ah se no un altro esempio scusami no fear sarebbe quando tu non hai paura dell'azione rp che sta avvenendo ok mi fai cinque esempi di no fear allora c'è il no fear estremo c'è il classico no fear che ti puntano e tu non simoni la paura poi c'è ad esempio tu cammini nell'autostrada e non hai paura delle macchine che ti possano investire non hai paura della polizia o non hai paura di camminare di un palazzo e non hai paura quindi di cadere ok sì sì certo se ero panicale lo dico ben va bene e quanti poliziotti possono partecipare in azioni a free room in azioni a free room 14 poliziotti e 10 criminali ok che tipi di anni possono usare in azioni a free room solo pistole solo pistole ok e i caschi si possono usare? no i caschi non si possono usare no 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 si ci sono si ci sono scusami mi dimentico richiabo grazie per il follow benvenuto magari un po' è bravo a farlo passivo comunque un altro metagame che mi era venuto in mente che mi sembra venuto in mente adesso può essere tipo la cosa dei soldi sporchi che tipo tu perquisisci uno e tu sai già che quelli sono soldi sporchi e non fai tutta l'azione di controllare se quelli soldi sono sporchi no ancora non l'ho chiesto a Disney grazie a me ragazzi dai le domande ancora sono tante vabbè andiamo avanti intanto un esempio di azioni a free room quale potrebbe essere secondo te? può essere che c'è un inseguimento praticamente iniziano i fissi che vengono inseguiti iniziano a sparare alla polizia quindi la polizia chiede supporto praticamente no ripeti ripeti che hanno stato sentito bene la polizia ferma fa un fermo stradale però essi quelli coinvolti hanno un ostaggio e hanno armi con sé di alto calibro perché dovrebbero andare a fare una rapina allora i criminali iniziano a sparare alla polizia quindi la polizia chiede supporto e inizia quindi lì essa in un'azione free room che diventa un 10 contro 14 ok perfetto quali sono le zone rosse? le zone rosse sono zone come si possiamo dire di raccolta in cui ci si può sparare a vista ma viene sempre consigliato un rp parlato tipo se tu vedi c'è gente che raccoglie disarmata non è che gli vai a sparare diretto cioè li punti gli chiedi cosa ci fanno lì e dopo ti inventi tutto tu l'rp eh? beh dico che quando tu incontri una tipo qualcuno che sta raccogliendo disarmato non è che gli vai a sparare perché tu vuoi andare lì gli vuoi sparare perché li vuoi uccidere cioè se riesce allora si può sparare a vista però comunque devi fare un minimo di rp esatto eh chi riguarda pennetta sì dopo vedo richiederglielo mhm pensa a me è il più difficile la guerra di impero che ha disinterza media ma stasera che vanno mentre la guerra le puzza un po' no no sono io sono io con la nostra sera ragazzi mi preoccupate sono io sono io che che digito una tastiera fortissimo comunque sì e Giuseppe Bar grazie per il follow benvenuto e Alexa accendi il ventilatore non ti ho sentito perfetto e quali sono i punti rossi datamente le zone rosse allora io quelle che mi ricordo le zone rosse erano la marijuana le due tipi di marijuana poi c'era la spiegarli meglio quali sono i punti la marijuana popolare poi c'è la marijuana normale la marijuana popolare è quella lì che potevi utilizzare solo armi bianche invece la marijuana era solo pistole ok ti devo dire anche i numeri ti devo dire anche i numeri di agenti ancora dopo magari ok ma dimmi dimmi sono solo questi i punti droga c'è solo marijuana e marijuana popolare non c'è nient'altro no 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 ti avevo pure detto la cocaina e i cristalli e c'è anche l'oppio scusate la cocaina i cristalli l'oppio e anche il crack che è una nuova una nuova droga ah sì è vero è una nuova droga l'ho letto l'ho letto cioè le carabine le armi automatiche le armi automatiche non mi ricordo quali erano sinceramente non mi ricordo se erano smg o carabine o entrambi tu rispondi alla domanda come pensi tu allora ah sei re grizza ciao se mi ricordo male gli smg sono automatici quindi ti direi cristalli che senso spammare eh ti direi io essendo che non mi ricordo come sono quelle automatiche però ti direi gli smg quindi i cristalli smg e cristalli ok ci sta ma solo questo ce ne sono anche altri le automatiche cioè che intendi oh system devo fare una wild isbella non è che devo farla sia complice io le automatiche sapevo che erano gli smg e le carabine quindi se tu vuoi intendere anche le carabine c'è pure la cocaina e tu spiega quello che pensi tu io non ti posso rispondere allora io le automatiche penso che siano sia gli smg che le carabine quelle che sparano tanti tanti colpi a raffica quindi ti direi sia i cristalli e sia le cocaina anche l'occhio ah ok scusate l'occhio ero utilizzavano solo pistole scusate mi ricordavo esatto in che senso dove sono le sue pistole no perché in varie città è sempre l'occhio cioè l'occhio è sempre pistole ma qui mi ero dimenticato che ho visto utilizzate anche le smg e invece Antonio per la guaiatist di gruppo bisogna chiedere a ninja direttamente io non posso farci nulla ciao ristruttore invece parlando di zone safe quali sono? allora le safe zone ci sono sempre quelle basi cioè negozi di vestiti totuaggine sono il bot grazie per il follo benvenuto e poi c'è la chiesa che è una safe zone in cui tu non puoi neanche tirare fuori le armi infatti è richiesto un RP che non sia sia rispettoso verso la religione poi dopo ci sono anche le semi safe zone ok le semi safe zone quali sono le semi safe zone? le semi safe zone quali sono? cioè le semi safe zone sono i locali e la stazione di polizia i locali e la stazione di polizia ok e come si possono assaltare? allora i locali avranno un ticket se non mi ricordo invece le stazioni no cioè le stazioni puoi assaltarle ok ma qual è un buon motivo per assaltare la centrale di polizia? certo per forza certo grazie di code suggerisci pure una domanda ci sta o la poi riscatta punti suggerisci una domanda che è 300 punti oppure la scrivi se me la ricordo poi non puoi la facciare la fine e quindi le assalti però sinceramente se è un pit l'assaltare 8 criminali che è saltare in 8 ok in 8 si salta ok giusto e quanti i poliziotti difendono? eh illimitati quindi dico se è un pirla attaccare in 8 contro poliziotti illimitati capito? e che tipi di armi si possono utilizzare? che tipi? che tipi di armi si possono utilizzare? tutte le armi i caschi si possono usare? si 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 comunque posso dire che se è sempre un pirla attaccare la stazione contro 50 si in effetti si e la ha riscattato i punti young quali sono le fazioni neutrali? bene se certo? quali sono le fazioni neutrali? le fazioni neutrali sono l'ammonation il concessionario e i soliti medici ok giusto e i medici parlando dei medici si e questa domanda è stata suggerita in live quindi mi è stata suggerita dalla live questa domanda delle fazioni neutrali i medici possono compiere azioni illegali? se non mi ricordo fuori cioè fuori proprio dal lavoro quando sono fuori servizio si però se sono in servizio non possono ok giusto e possono essere armati? ah ziz scrive pure la domanda che volete come ho già detto con armi da fuoco no però possono avere un tese per difendersi in occasioni in cui serve come come che senso questa non è una domanda da regolamento volta ttv grazie per il follow anche bello mio grazie per il follow non è una domanda da regolamento però ciccio questa eh non vorrei dire suggerisci una domanda da regolamento per favore ciccio così poi roppo e la faccio ok il medico può essere armato? te l'ho già detto cioè fuori servizio si ragazzi fate domande fate domande che siano del regolamento perché la polizia può perquisire una domanda più interna regolamento polizia ragazzi ok descrivi la pacifica questa mi piace la faccio subito mi suggerisco nel chat descrivi la rapina alla pacifica tutta chiedo per segno allora tu alla pacifica puoi stare massimo 6 criminali e devono esserci tra i 7 e 8 agenti devi avere puoi avere due stagi puoi utilizzare qualsiasi arma se non mi ricordo qualsiasi arma puoi usare che possono stare persone fuori puoi usare i caschi però se non mi ricordo tu non potevi abusare della cosa della ringhiera e delle porte che tu non le puoi aprire sparando perché è considerato fail rp perché le porte nella vita reale se te le spari non si aprono non si bucano ok quanti criminali possono ok perfetto quanti criminali possono essere c'è all'esterno all'esterno 1 non mi ricordo 1 o 2 ok e quanti ostaggi possono avere 2 Krihoff grazie per il follow benvenuto sul canale anche grazie per il follow dalitrack benvenuto ok mi chiedono sempre dalla chat quanti tipi di permate conosci o che o esistono allora io riconosco il nofi arre estremo e il defazionamento madonna ragazzi va poverino 10 motivi validi rp mh 3 3 tipi quello normale con 10 motivi il defazionamento e il nofi arre estremo allora defazionamento con il nofi arre estremo quello normale invece me lo riscrivi serie devi avere 10 motivi rp validi cioè non è che quello lì ti sta sul cavolo e quindi non lo puoi fermare e puoi farlo solo una volta per richiederlo deve essere accettato da un admin in su e e se tu lo fallisci devi portare altri nuovi 10 motivi è nella stessa azione del permadet e qualsiasi persona che verrà uccisa potrà essere anche giudicata dallo staff se fermarlo o meno che muore nell'azione ok invece la polizia fa permadet secondo te? la polizia si la polizia secondo me fa l'unico permadet che è il permadet che è il permagail che sarebbe l'ergastolo ok e invece sempre mi chiede ma è dato che io ho i punti canale che diciamo se qualcuno vuole suggerire una domanda la faccio mi continuano a spammare e suggerisci una domanda ti vogliono male mi dispiace in chat quindi mi chiedono cosa è il metagame c il metagame c sarebbe che tu sai che in rp in una rapina facciamo ad esempio in una rapina ci sono due poliziotti e quindi tu esci esci spari i due poliziotti e te ne vai tu sapevi già che fuori c'erano due poliziotti quindi dici ah molto facile ne abbatto uno che sta contrattando quindi sbaglio pure uccidere il contrattatore e scappo via se tu non puoi sapere in rp quante poliziotti ci sono fuori della rapina ce ne possono essere sette o otto però tu in rp sai che ce ne sono due perché sai che il regolamento dice due ok che tipo di rp vuoi portare tu nel server io nel server sinceramente con gli amici volevo portare la fazione illegale però la vedo è un quanto difficile visto che siamo ancora in pochi ok però avevo sempre pensato a un normale ok ragazzi io ho finito di fare domande ora quindi se qualcuno vuole riscattare altre domande lo faccia ora perché tra poco chiudo la votazione e concludo la chat cioè concludo la whitelist quindi chi deve riscattare gli ultimi punti lo faccia ora o mai più osamot grazie per il follo ecca la osamot che riscatta la domanda le fumogeni le fumogeni in che senso le fumogeni bello mio ma nel regolamento c'è scritto ok e mi chiedono sempre in chat hanno riscattato le fumogeni quando le puoi usare diciamo quante granate gas puoi usare nelle rapine le granate fumogeni due se non mi ricordo la pacifica un agente un agente quante granate gas puoi usare una una ok perfetto bene bene sono contenti vediamo qua l'hanno scattata l'hanno riscattata qua ti vogliono molto male il regolamento della pennetta sinceramente te lo dico io sincero che non so cos'è la pennetta quindi non l'ho non l'ho proprio letto scusami non l'ho letto lo dico io sinceramente che non l'ho guardato proprio di di sfuggire ma va bene va bene essendo che non sapevo cos'era non l'ho neanche capito ok va bene ma cos'è la pennetta sinceramente è tipo compri una pennetta ti manda in un punto dove trovi delle armi delle cose che figata va bene ora ufficialmente concludo la 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 whitelist quindi adesso ci penso un attimo sull'edito quindi basta riscattare le domande perché non le faccio più ora quindi le scattereste senza senza un senza un obiettivo perché non le faccio quindi secondo te la whitelist l'è passata oppure no allora io sinceramente per la pennetta non penso che cioè l'altra volta mi hanno non sono passato perché non sapevo i territori dei territori arancioni e poi gli ho detto una domanda su questi territori arancioni ma se io dico che i territori arancioni sono territori di maffia dove si può processare la droga giusto? ho sbagliato ancora non ho capito le zone arancioni sono zone assegnate dal cartello che devono essere protette dalle fazioni che vengono assegnate comunque a parte gli scherzi tu ora come ti senti che sei andata alla whitelist? sinceramente le cose ne sapevo quindi penso che sono passata bene secondo te tu sei passato e terminiamo il pronostico e tu sei ufficialmente passato ah pensavo rimandato no no sei passato ti hanno fatto delle domande bastarde perché ragazzi siete stati cattivi però comunque ragazzi è passato sono contento grazie quindi ti metto i ruoli tu ti sanno mi c'è in chat poveraccio poveraccio quante domande le hai fatto comunque sono contento di aver fatto tante domande perché comunque vieni vieni whitelistato i ruoli te li ho messi la whitelistingame te l'ho appena messa quindi buon rp e vai grazie mille grazie ciao ci vediamo presto ciao ciao perfetto ragazzi siete davvero bastardi siete stati e ci avete fatto un sacco di domande cioè avete fatto una caterva di domande ragazzi davvero proprio cattivi siete eh ragazzi attivo con calma guarda che non è facile fare le whitelist eh raga è dura è faticoso grazie di follow al napoli lover benvenuto vabbè ragazzi la gente fa spesso tanto rp il tanto rp illegale però sto vedendo sempre più gente di rp legale eh sì sì è la staff e sul wine fa il live davanti bastarde no aspetta spacco un attimo prima vediamo un po' tutti oggi so quando danni è in live non vengo perfetto per taglia quindi lo farai quando sono off live con chiunque altro io farei solo whitelist è tutto il giorno young fidati che dopo ti riguarda fidati che dopo 1783 rimandati e 180 whitelist fidati che che dopo un po' diventi stanchi Diego Siani grazie per il follow benvenuto greg will vediamo un po' il monato non ricevo sicuramente il generale di impero bab bradley ciao Diego Siani benvenuto buongiorno eh lo so però ragazzi faccio un po' in ordine dipende vediamo un po' questo qua allora il 80 807 è così e mi bastano molto su quello che vedono eh no ragazzi purtroppo un attimo preferisco fare uno che è giusto rimanato per il regolamento mi sa che mi sposto Greg Willen ragazzi come bradley davvero scontroso come mai come mai vedete che è scontroso le mie nemesi e Joe perfetto ma cosa vedete contro bradley povera non fa niente di male dai regà non trattatelo male non parlate male di lui ok giusto per i modi di rispondere davvero bravissimo a fare ciò che fa e nulla a toglierli rispondi che fa diventare tossiche purtroppo ossia per esempio taglia mi trafa spaccare con giorno ho fatto 4 con giorno ho fatto 4 sono stato con mitra adesso mi sono un po' sono passato per favore con mitra dai no ma mitra è anche un bravo dai e non so ma comunque tanto loro fanno il loro discorso per forza ricordo ciccio fanno il loro discorso di sparato che sparano tanto cnico vediamo un po' questo cnico non ha mai fatto la whitelist non ha compilato il modulo whitelist raga ma non è impero è in generale 5m che è diventato così sposto questo cnico muto quindi la live spostiamolo cnico ciao sono in live un problema ok guarda devi ampliare il background e compilare il modulo whitelist guardavo che mancano queste cose ok esatto va bene a posto deve essere più lungo ai 2000 caratteri il background a posto buona giornata ciao perfetto perfetto dai ci sono un nuovo ciao sono un nuovo come va tutto bene it's fref benvenuto benvenuto dai ma che pg ruoli in game io ruolo il tenente di polizia sono amato in chat ragazzi è arrivato Bradley in chat quindi scriveteli pure tutto quello che pensate su di lui insultatelo se volete perché nella mia chat potete insultarlo se volete poi in privato no perché poi vi banna però in chat da me potete insultarlo se volete eric cry grazie per il follow benvenuto poi dopo è meglio che non andate a fare la white race con lui perché dopo poi dopo vi banna poi mi rimanda quindi insultatelo pure ma poi rappresentate i white race da lui che nel bg mio fratello da poco dovrebbe arrivare un amico che va a fare la well che è perfetto nico03a grazie per il follow benvenuto oh attesa guarda si riempie sempre di più vediamo questo nuovo non ha mai fatto non ha mai stato rimandato e non ha compilato i moduli perfetto mutuo la live perché non mi fido come sempre pado ciao buongiorno senti quanti anni hai eh guarda purtroppo ho la voce bianca e su impero purtroppo la vita minima è di 17 anni quindi ti devo rimandare torna quando magari ti cambia la voce ok buona giornata ciao perfetto bravo le ti amiamo dopo 8 mesi ci sei arrivato anche la gente a vita eh sì da 8 mesi è stato ottenente finalmente finalmente è stato ottenente studiate studiate regolari no che bastardo perfetto bravo le vini con me in white dai che ci facciamo un po' di white list io e col bastardo di white di bravo dai vieni 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 bradley facciamo un po' di white list cattiva io e te t finale non lo sposto lo spacco ora no perché voglio fare prima greg willen l'ho deciso adesso sposto greg willen ragazzi un attimo tranquilli bradley vuoi venire con me a fare un po' di white list venghi venghi spacco se mi subi non cambia nulla non so mica mi corrompi se mi subi ti ringrazio però non mi non sono una persona che si fa vendere per sub se mi subi ti ringrazio ma non è che cambio idea non mi faccio corrompere ma i tempi made at an intertop però ti odiavano tutti ehi un less vuoi venire in white list oppure no vabbò spostiamoci greg willen dai ciao ciao sono in live un problema se facciamo la white list in live eh ti sento bassissimo alza un po' il microfono avvicinate il microfono ecco oddio è un po' troppo vicino ora comunque ok perfetto greg willen il game è greg willen allora mi raccomando utilizzare termini consoli alle politiche di twitch mi raccomando bene allora parli un po' del tuo background cosa vuoi fare nel server ancora devo vedere perché mi piace molto fare lavori in white list tipo l'ultimo server in cui sono stato fatto il medico poi anche concessionario un po' di roba poi se si deve sviluppare un rp criminale si venderà più avanti e con chi conoscerò quanti anni hai tu? 18 ok bene allora definizione di rdm e vdm iniziamo rdm vuol dire random deathmatch e quando ci di qualcuno senza una valida motivazione rp e vdm veicol deathmatch ci di qualcuno con un veicolo senza una valida motivazione rp ok definizione di metagame metagame è quando prendi informazioni fuori dal gioco e le porti in gioco appunto ok mi fai 5 esempi di metagame e magari sono su discord con un mio amico mi dice guarda sono al campo droga al civico me lo dice e io vado poi un altro potrebbe essere eh eh dove è uno poi ok un altro potrebbe essere allora anche magari durante una rapina sapere precisamente quanti poliziotti ci sono quello è anche quello è metagame poi riconoscere qualcuno dalla maschera magari poi lo vedi senza maschera dici che lui magari riconoscerlo dalla voce dai vestiti o riconoscere anche dai vestiti dal veicolo poi poi esatto ragazzi facciamo l'esempio apposta perché ti leggono quindi e siamo a tre o quattro quattro siamo pure cosa ti manca io continuo ah ok magari in chat c uno scrive non mi sembra che abbia 18 anni anche a me sia sincero campo droga campo droga full e io ci vado quello comunque è anche un'infrazione di regolamento dei campi droga però comunque perché se è full non puoi andarci potresti aspettare che finisce e vai poi definizione di power game brado divina me vieni con me un attimo entra con me fai un po' di domande anche tu che io mi sto sto svenendo ripeti per favore è quando sfrutti meccaniche del gioco che nella vita reale non sarebbero verosì infattibili ok mi fai 5 esempi di power game ok allora magari avere 100 di cibo nell'inventario avere un corpo in mano e saltare correre ma con magari hai un'auto da strada dio mio che schifo non è che scriverla poi anche parlare sottoacqua e power game scusa magari usare il cellulare mentre sei in acqua altri magari c'è un'auto che è doppio è biposto siamo in tre siamo in tre uno lo prendo col carry e entriamo e art non so scrivo numeri perché mi muto e mi smuto per questo devo ripeterlo ripetisi e magari c'è un'auto che ha due posti e noi siamo in tre prendo un amico col carry e entriamo e andiamo ok poi non me ne vengono altri me ne hai chiesti cinque sì e magari anche magari mi faccio una benda e premo x di solito x per annullare l'animazione e continuo a camminare come se nulla fosse eh magari ti fai una benda la benda all'animazione e io annullo l'animazione non so con x di solito e continuo a camminare che bel messaggio che ha perso un chat oddio ok e sì scusate ragazzi sono un po' stanco quindi non sto dietro molto andiamo avanti ora la definizione di no fear no fear è quando appunto come dicevo con la parola non hai paura ok in situazioni di pedicolo e mi fai cinque esempi di no fear ok magari ma capite avete paura di votare ragazzi c'è 10 sì 80 per il no dai su tranquillo ti puntano una pistola e inizio di reno non ho paura così capito poi magari sali su un palazzo verso il follo osta pippo benvenuto poi magari ti rapiscono e mentre ti intimano di salire sull'auto continuo a dire no non ci salgo va bene è uguale a quello di prima magari sto andando a 300 in autostrada e vado cioè cambio corsia vado in contromano e e poi bobo 98 vita ha riscattato la domanda vediamo un po' cosa mi consiglia uno un po' più forzato potrebbe essere magari di notte sei da solo sul ciliad definizione ad esempio di failure e p tranquillamente senza preoccuparti magari i animali elettatici va bene adesso mi fai la definizione di fail rp fail rp è quando fai azioni forzate quando fai azioni irrealistiche forzate e nella vita reale sarebbero fattibili e mi fai degli esempi ok parlare da morto magari ti sparano a un piede e continui a camminare come se non fosse successo nulla stessa cosa magari caldi da un palazzo sopravvivi continui a correre camminare e e magari hai appena fatto una scena dove ti operavano all'ospedale dove ti hanno messo i punti così e appena esci inizia a correre e non inizia a correre appunto ok però questo è più un power game che con fai l'rp diciamo col primo imparata molto ok è pareto bene perché è fai l'rp però poi sei andato a finire sul power game sei andato a finire secondo me no perché alla fine durante una scena non sfrutti nessuna meccanica quindi perché appunto il power game è abusare di meccaniche mi hai appena detto abusare meccaniche per operazioni così e io mi hai detto che power game cioè che questo è power game però secondo me è più un fail perché alla fine il power game è abusare di meccaniche del gioco invece in una scena dove ti operano non non ci sono meccaniche troppo complesse del gioco cioè si fa più tutto con lo slash me credo e poi non so nel server cosa ci sia ci sono attrezzi così vabbè qual è il combat log? il combat log è allora ok si il combat log è quando magari tu c'è un'azione tu non ne fai parte e ti aggiungi all'azione anche se non c'entri nulla poi c'è anche il combat log che magari c'è quando entri in un'azione proprio da fuori dal game che tu loghi in ok quando puoi compiere power game in azione? in azione per esempio la capriola baggata che fai con la radio questo mi sta dicendo che si può compiere power game in azione ma sta dicendo no voglio fare io ti ho chiesto quando si può si può compiere il power game in azione mi sa che non ha capito bene la domanda è anche rimeduta guarda Greg dico dire purtroppo che la whiter è così come da qua ok quindi ti devo rimandare ti rimando 24 ore speriamo a fare un attimo quante volte è stato quanto devo essere rimandato la scorsa volta 12 però quante volte è stato rimandato 1, 2, 3 volte rimando 48 ore ti rimando deve essere più sicuro nelle risposte che dai ok quindi mi dispiace purtroppo ciao che bei cazzi che sono still live mamma mia mamma mia sti poveracci che vengono in chat per rompere le palle mamma mia mamma mia perché la gente si poveracci ogni a rompere le palle lei da me mandato 48 ore deve ripassare tutto il regolamento di intero e deve essere più sicuro nelle risposte perfetto l'ho messo in grassetto ora si l'ho messo in grassetto n n che non è la n ma è scritto n è scritto il regolamento deve inviare il modulo vl l'ha inviato l'ha inviato metti il bot che toglie i simboli asci e evidentemente il new knight bot dovrebbe moderare chat chat però non so come farlo un attimo knight bot dove sei eccolo qua oi spam protection access escape emote links e symbol ecco qua ora l'ho attivato a posto perfetto ho abilitato la modellazione del knight bot di simboli e si 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 ho messo che protegge la chat dai simboli quindi ogni simbolo che manda mi sospende le persone nel knight bot e si perché se ne escono quelle figure molto strane molto che però fortunatamente non escono nel video quella brescio di finale di manado devi inviare il background ok attualmente abbiamo Ertaglia che è il top chatter di oggi quindi Ertaglia ho visto Ertaglia che mi ama ma anche altre persone sono contento faccio bene il mio lavoro ecco da white list vai clav tre bot metti qualche simbolo vediamo se ti sospende dovrebbe sospendere in automatico knight bot se non lo fa lo insulto sei ore non riesce a fornire esempi sulle regole base ottimo chi è questo parside vai clav metti qualche simbolo parside devi stare attento quando sposti verso è pericoloso sono in live è un problema parside se facciamo live perfetto mi raccomando parlo di consone alle politiche mi raccomando certo tiè tavarnato ma hai visto che ha funzionato power game senza veicoli correre saltando sminavare 005 00564 grazie per il follo benvenuto ora sentiamo un po' di whitelist di bradley ragazzi ascoltiamo un po' mi prendo una whitelist di pausa ascoltiamo bradley vediamo come fa lui così imparate anche le sue domande così citate anche con lui per ora io sto un po' zitto mi ascolto intervengo controllo la chat potete suggerire comunque le domande le faccio ragazzi se volete suggerire domande fatele metto comunque il sondaggio come se non c'è sia ma parla alla bradley rispondendo al telefono in acqua altri pover game senza veicoli saltando dal palazzo ce l'ho detto salire che ne so su una gru buttarsi da una gru se volete chiedere che io faccia se volete che io faccia delle domande riscattate nei punti canale vi suggerisce una domanda me la suggerite io la faccio subito interrompo una persona e la faccio quella domanda lì ha la priorità altrimenti se voi mi chiedete senza riscattare se me la ricordo la faccio alla fine perfetto avete visto che funziona? dai ma tra l'altro non esiste ancora la differenza di power game primo e secondo grado no non esiste l'elicottero si può usare? no si dipende se la polizia lo può usare per esempio nella zona di vendita di droga perché non è specificata nel senso può avvenire ovunque ok l'elicottero in azione freerum si può usare o no? nella zona freerum si si può usare la polizia in rapina può usare l'elicottero? no da quanto fai RP parsiger? da due mesi ok circa prima o due mesi sempre fatte no whitelist ovviamente va bene va bene cosa è il combat log? allora il combat log sarebbe quando noi partecipano all'azione persone che non fanno parte in quel momento dell'azione no? io entro e partecipo all'azione ad esempio quando puoi sparare dal veicolo? dal veicolo posso sparare solo nel momento in cui vedo un no fear ripetuto si vede che ha comprato lei è cambiano le domande è solo alzato se sente basso un no fear e posso sparare dal veicolo no? si sente meglio e ora tre esempi di fail rp allora se l'rp che ne so vengo rapinato cioè mi stando no rapinato scusa mi vengo vabbè pesa mi ostaggio rapinato e non derido o trollo la persona che ho rapinato che mi sta rapinando vado in zona rossa senza armi può essere considerata con un fail rp o un no fear vado dentro è più al limite del no fear oppure vado ah stiamo parlando scusami di no fear o fail rp non ho capito fail rp ah fail rp e quindi azione irrealistica appunto sto in acqua rispondo al telefono power game giusto vabbè azione irrealistica quella non non mi scherro a power game con il fail non ho capito scusami non mi scherro il power game con il fail rp cattivone giusto giusto sembra direi quando oppure vado in in stazione di polizia a trollare la polizia quello non è coppobating proprio specifico questo diciamo e fail rp oppure quando se vado in zona rossa senza armi può essere considerato un fail rp no la sono un coglione la trutica non stavamo live no no si può dire grazie per avermi coglionato il live insomma e oppure che ne so il fail rp può essere considerato il fatto che faccio un sopruso della terza persona no sgamando le persone dietro i muri o guardando dietro la testa giusto quando non rispondete mettete anzi no no dove avanti finché non diciamo niente vuol dire che vai bene o massimo ti chiamo ok e un altro esempio fail rp sempre altri due dove devi fare ok se mi butto da un palazzo di 10 metri decimo piano questo è considerato un fail rp allora sei un clown se ti butti da un palazzo decidi te come vuoi essere capisci cioè non pensare a questo magari non lo so pensa a quello che fai in gioco che potrebbe essere un fail è questo sì perché infatti ieri mi sono reso conto diciamo le cose estreme non c'è sono cose estreme sono troppo facili da dire quindi magari vieni di dire cose un po' più un po' meno un po' meno allora ad esempio un medico che che mi cura da per terra invece di stare 5 minuti ovviamente perché non è ci ripendiamo dallo stato di come corriamo ma appunto non so i 5 minuti impulsa di lei inizia a correre per la città come se nulla fosse eh sì raga purtroppo dimmi un po' dopo che ti resta un medico dopo quanto puoi ricordare un'ora se ti resta l'admin se mi resta l'admin non posso ricordare giusto se uso lo slash ambulanza se uso slash ambulanza vado in ospedale quindi non posso ricordare quali sono le fazioni neutrali del server la polizia e la no scusami i medici e la polizia si le fazioni neutrali quindi però i medici possono essere diciamo non insultati neutrali è perché nel momento in cui il medico va a curare deve essere ovviamente neutrale non è che cura una e la polizia perché ci sono gli agenti corrotti ma ovviamente l'admin sa quale c'è deve essere un numero specifico quindi comunque un'altra non è che una fazione o l'altra no mister martin98 grazie per il follo un ostaggio in una rapina può essere concordato col criminale si può essere concordato col criminale ma nel caso in cui viene ucciso è permadet per l'ostaggio e comunque non può fare fail rp in quel caso deve comunque mostrare paura per assaltare la centrale di polizia serve un ticket si serve un ticket è un motivo valido in rp per fare un'azione un locale serve un ticket per fare un'azione un locale si serve un ticket o comunque avvisare uno staffer per serve un ticket un locale è perché è una zona semi safe quindi non posso fare azioni mettendo in un locale e inizia a sparare la gente insomma si che quello è dm però per rendere esempio insomma cos'è il carjack il carjack c'è quando prendo una macchina senza stabilire un'azione giusto carkill carkill e quando invece io prendo un player io sono helper all'effettivo staffer cioè sono staff di impero e helper col grado helper ci stanno ci stanno i gradatori sono staff in prova whitelister traffic developer handler elitor poi supporto tecnico streamer partner di quelli che sono responsabili di stream tipo medogiorno kertus poi game hosting poi helper moderatore admin discord admin ed admin developer co founder owner founder ps insomma indirapina riprese nostalgi insomma qual è il range di un'azione free room range di azione free room è 300 metri o 500 mi butto la prima 300 durante un'azione free room si possono spostare i corpi si possono spostare i corpi ma non possono comunque per essere presi medikit o band varie insomma quando è possibile ruolare parenti in game parenti in game sono nel background infatti questa è una cosa che volevo chiedervi nel caso in cui vengo promosso delle virgolette no comunque oddio Ertaglia posso specificare oddio no Ertaglia specifica la domanda perché ho detto la domanda non un argomento intero dai quindi dimmi la domanda perché la parte illegale è troppo grande i medici possono vendere bende vendere bende si medikit medikit no mi sembra come vuoi corrompere una gente dell'fbi faccio più di cambiare la domanda taglia possono essere tutti a differenza di voi no decidi tu taglia è una domanda appunto e devi decidere il tuo punto per questo io non ci sono quello con un assenso dalle scatto ho riscattato una domanda tua però devi decidere la tua domanda 8 criminali o 6 beh se la prima è quella che vale se ho sbagliato 8 criminali una è la risposta mi sei aiutato la verità vai dico 8 ho detto 8 è giusto che dico 8 quando due fazioni criminali si stanno scontrando e come terza fazione interviene la polizia in quanti può intervenire la polizia può intervenire massimo in 12 questa qui va bene perfetto in chat hanno riscattato i punti di canale per chiedere una domanda a te perché in chat da me c'è la possibilità mi chiedono che devi dirmi tutte le zone rosse zone arancioni e le zone safe facciamo in zone nale tutte le zone che riguardano le azioni illegali quindi inizia a parlare tutte le zone che esistono nelle parti illegali quindi zone rosse zone safe zone arancioni vabbè le zone rosse sono relative alle droghe o poi nello specifico volete sapere eh? dico volete sapere nello specifico quali sono le zone rosse eh certo devi specificare le zone rosse zone arancioni e zone safe vabbè le zone rosse una per volta quindi non va bene se ti ho detto che sono le zone rosse intesa come è vendita o cioè scusami raccolta o mi spiegare tutto quello che sei su queste zone non ti impongo niente ti lascio libera risposta riguardo queste tre zone qua allora le zone rosse sono relative diciamo alla zona in cui io raccolgo o processo la droga per quanto riguarda la vendita invece siccome non è non è precisata può avvenire in qualsiasi zona della mappa suppongo zone arancioni posso quindi le semi safe parliamo sono i locali tutte le attività della città e le zone safe invece sono diciamo la polizia e del commissariato e l'ospedale che sono anche sorvegliate exeos no no vai avanti vai avanti con le altre zone beh le altre zone le devo studiare ma l'hai detto hai detto per ora che zone hai detto per ora cosa non l'ho detto brady ti ho ascoltato giusto esatto mancano le zone le zone rosse e le zone arancioni quindi le semi safe no sono i tuoi locali della città no le zone arancioni sono zone che dà cartello alle mafia e gang la polizia si è una zona safe è una zona semi safe aspetta che me lo scrivo perché quando usi la selection ambulance ti puoi ricordare dopo un'ora le fazioni oltre le sono medici armeria e concessionario ah è vero l'armeria e concessionario è vero per assaltare la centrale di polizia non serve un ticket e devo comunque avvisare lo staff però no no devi avere una motivazione valida in rp poi se puoi avvisarlo ah ok e per assaltare il convoglio della polizia safe guarda di gruppo non deve essere più sicuro guarda di gruppo bisogna chiedere a ninja ma assolutamente non si farlo più ha teo rimandato? vabbè safe ok va bene ragazzi ciao ciao e niente non ha passato la white l'exporto troppo vediamo un po' come sono stati i punti eh orco giuda come non passa porca miseria tutti avevamo votato 4000 punti sul sì e 30 sul no chi è il fortunato che si è preso tutti sti punti? sono tre fortunati che si sono presi una cata erba di punti grazie per il follow a tutti quelli che avevano messo il follow che sono Gaspo19 e vetsteo grazie per il follow ma lo scrivete questo eh? l'ha scritto che questo? chi? a lui quello che abbiamo rimanato eh lo scrivo io? eh scrivilo come si chiamava? aspetta un attimo ah sì ok 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 ce l'ho ce l'ho sì sì par side rimandato quante ore? sei sei ore deve ripassare il regolamento di impero perfetto provino però provino quello però ma ragazzi ha fatto un po' di erroracci eh devo dire ma la pia non è cattivo brada di fare domande normali che faccio io solo che magari è un po' più cattivo di come parla fa magari un po' di paura questa non deve inviare i file docs come finale avvertire quando può spostare gente ciao sono in live è un problema? ok i link non li apriamo un file un file è quelli da scaricare oppure 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 quelli tipo foglio di testo che te lo metti in automatico come leggibile no no vai a farlo e torna purtroppo quindi quindi fai questa cosa poi torna ok a posto ciao scritto scrivo io rimandato deve inviare il pc in modo corretto perfetto non passa non passa già rimandato eh già la porterò poi il prossimo con brada dei patch non passa il prossimo con te brother dicono che sia così facile che sicuramente non passa la sua situazione fa vedere particolare come è scritto questo bug ma nanno 99 quindi in realtà aspetta aspetta mi puzza questo lo posso passare in azione in console sposto uno aperti mamma mia sposta le persone così grazie per il foro Giovanni Arach benvenuto why arctic sium sai che qualche giorno fa sono andato con fare un po' di free room con con grave e fox e tu non c'eri era mattina tu dormi sempre la mattina manco ha parlato che non è passata no no lu luks semplicemente oh cazzo mi ha mutato bradley no no mi ha mutato io al live non sto non sto facendo sentire al live perché ora è nuovo a questo ciao peepoz buongiorno eh infatti non ci sei tu mi ha mutato bradley quante ore ho su il miglior risan adesso te lo faccio vedere stim profilo ciò esattamente 6338 ore 6338 ore ciò 54 spectats eh sì faccio sentire spesso faccio sentire sì ragazzi ora sentite eh calmati calmati a chi calmati ma friluomo che cosa che senso non da farmare a moito fare multe eh affan lose ma ma le esempi intendi te lo devo spiegare proprio eh sì devi spiegare il tuo background vabbè ho messo che nasce a new york e diciamo che come ho detto prima all'inizio perdi subito i rapporti con la madre ma dove guardi la steam ma dove guardo da qua sto faccio vedere un attimo diciamo vediamo un attimo ci fa brutte amicizie però non ha voluto ma intraprendere il mondo del crimine diciamo eh però faccio vedere da qua ragazzi profilo volevo intraprendere non si può mi chiamere bloccato viene bloccato da non si può vedere comunque non puoi farvi vedere steam ti viene bloccato mi dispiace viene bloccato non puoi vedere oddio non si può vedere purtroppo comunque riendare profilo cioè dovrei provare il tuo nome profilo e vedi sources sdk base 2007 vedi quante ore hai fatto dove di lì spiegare il background come netflix esatto non te lo fa vedere in stream mi dispiace eh voglio intraprendere in poche parole te lo sto spiegando tanto lo scriviamo qua vb artica anche io comunque davvero il 95 del player in rp ma sembra famiglia morta o semiata sì veramente io volevo portare appunto un personaggio criminale l'obiettivo nel background cosa hai messo è che si trasferisce da lascia diciamo in virgolette le brutte amicizie viene su impero per appunto intraprendere una carriera musicale dopo questo accaduto corte decido di cambiare la mia città trasferisce lontano da lì mantenendo i contatti con il padre tutto non è scritto l'obiettivo con il tuo personaggio lo spiego al centro devo dimettere alla fine mette l'obiettivo con il tuo personaggio alla fine mi raccomando non saltare le cose la scaletta va bene va bene quitta così questo va bene va bene va bene va bene e va bene mi hai mutato nella mia mi hai mutato tu l'hai mutato si perché ciao ragazzi dicevo che hai i followers oei ragazzi ehi si ehi ciao voglio a posto purtroppo mi ha fatto divertire mi mutavo lì non ce n'è come mutato ma ragazzi dovevo avvertire che tu stessi e lei dovevo avvertire non sono abituato purtroppo allora un attimo che hanno stato dietro la chat un secondo ragazzi che sto facendo una cosa sul discord della polizia della sbirronia cattici perciò tutto ci ma comunque quelle cose che ho proposto l'ho fatta oddio quanta chat un attimo allora quanti anni hai le fatte con la testa quanti anni hai ho 19 anni ragazzi sono 19 anni stiamo dicendo tango 1 tango 2 vani no stavo un attimo sul discord a fare una cosa a fare una cosa della polizia aggiungendo una cosa n deve inviare il modulo white list tre anni di esperienza è la maronne n che cosa n non è n era me n word allora 8 anni da canto coordinatori stavo leggendo la chat ufficiale no no stavo leggendo la chat ufficiale in altra voce sveglio no no quelle che ho fatto io con la testa si si ma tu sei pazzo cioè dai io stamattina mi sono svegliato apro la chat e leggo te di notte che tu che mandi le proposte tipo ma what alle 6 di mattina studiate ah begli elementi ti hai risposto degli elementi selezionati da me quindi mi fa sposto ma tu mi hai tornato a Guarneri mi hai tornato a Wallace che ora mi comincia a essere tutto più creativo adesso no no ieri ho parlato con Guarneri a terra era sconvolto persone che fanno come gli pare ah perché siete spariti siete sparite Wallace e Guarneri per una settimana due è stato in panico perché io sono solo la sera i coordinatori più di un tot non possono fare quindi io purtroppo avevo le mani legate c'è l'anarchia mi si arrivate voi mi si arrivate siete spariti tutti Lukita danni per l'esame deve diventare agente quanto dura prima lo so abbiamo alle 21 e 30 mi piaceva essere raga non ti preoccupate che vi dura mezz'ora non dura mezz'ora precisa quindi 22 siete già in centrale pronti vestiti e preparati mi può passare la tua voce alzare Bradley allora mia voce è alta perché mi dicevano che era bassa e mo li dobbiamo massarla perché dicono che bar cioè alta ma abbiamo alziamo Bradley da 200% no è Bradley che bar così parla quanto basso mi senti poco come sposta n n siamo in live ciao n siamo in live un problema perfetto la parte dell'infanzia e ampliare in generale il background visto che deve essere minimo 2000 caratteri ok vado a prendermi melone arrivo subito muto qui e muto la live quindi ho mutato la live e vado e muto anche il microfono arrivo subito signori di Twitch mi dissocio dall'iniziale che ha detto il collega mio e vado a arrivo subito grazie a tutti grazie a tutti ci vedi Twitch buonasera sono tornato eccomi worth grazie per il follow benvenuto eccomi ragazzi oh scomparso io adesso non è finito eccomi no vediamo un po' quante white ci abbiamo fatto oggi ma anche off live eh abbiamo fatto 17 rimandati e due white listati io sinceramente direi che possiamo anche chiudere qui la live diciamo che tante le abbiamo fatte per me possono anche bastare sono comunque un'ora e mezza che siamo in live quant'è un due ore che siamo in live fare un 50 cazza per il follow benvenuto ragazzi io dico che per oggi può andare bene così quindi vi ringrazio per essere qui con me fate appunto scrivendo i comandi per vedere i comandi appunto scrivendo i yt per vedere il canale youtube appunto scrivendo i discord per entrare nel server discord mi comando entrate nel server discord seguitemi su youtube per vedere le repliche quindi per chi ha la sub può vedere i dettagli su twitch chi invece non ha la sub può andare su youtube iscrivendosi al canale e vedere i canali e i video due passati e 17 rimandati comunque conta che tanti rimandati sono per background comunque ragazzi io vi ringrazio tanto per essere attivo con me vi lascio dal mio caro mezzogiorno vi lascio dal buon caro mezzogiorno quindi mi morivano meno dai ragazzi grazie a tutti per la compagnia grazie anche a te per fare le cose che mi hai ringraziato per la compagnia io faccio volentieri vi ringrazio tutti per essere stati con me e ci vediamo nella prossima live vi lascio da medagiorno ciao cari grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti